Dottore Antonio Marziale, il garante per i diritti dei minori in Calabria. Importante incontro questo pomeriggio qui a Gerace, la tematica è di estrema attualità, si cerca di reintegrare nuovamente questi minori che hanno necessità probabilmente anche di attività culturali per potersi reinserire nuovamente nella società. Parlando con loro adesso io ho esaminato quello che è il loro status, messi alla prova. E mentre stavamo pranzando adesso ho raccontato loro quanto ogni giorno tutti siamo messi alla prova. Loro lo sono perché hanno sbagliato, la giustizia si accorta, gli dà la possibilità di potersi riprendere ed è la giusta condanna che uno Stato civile e democratico deve combinare i ragazzi che sbagliano. È un'opportunità. Non c'è recupero della persona se non c'è recupero di un aspetto culturale della persona. Quindi ben vengano queste iniziative della giustizia minorile di Reggio Calabria, chi gli offre la possibilità di vedere luoghi, di conoscere il proprio territorio, di vedere il bello e il brutto, di esaminarlo insieme e di comprendere quanto ogni giorno ci siano delle tentazioni positive e negative e di saperli discernere. Quindi riscondro anche una Calabria che in questo senso sta crescendo, in questo senso sta lottando. Devo dire che lamento, perché il garante questo deve fare, una scarsa attenzione in termini di bilancio da parte delle istituzioni, soprattutto dello Stato, nei confronti di queste iniziative che meriterebbero maggiore sostegno. E purtroppo questa è una battaglia a 360 gradi perché si sta perdendo il welfare e in Italia se non si rimette fondo a politiche che diano al welfare, diciamo, respiro, si rischia poi di perdere queste vite perché occorrono dietro delle persone preparate, capaci di integrarli. Quando si recupera una persona, una persona è il patrimonio del futuro di un Paese. Cioè non è un'opera assistenziale fine a se stessa. Se tu recuperi un giovane, tu dai tramite quel giovane la possibilità. Sono gli uomini, i soggetti che hanno fatto la storia. Vai a vedere che uno di questi non è uno di quelli che potranno riscattare la Calabria nei suoi bisogni e nelle sue necessità. Quindi onore al merito dell'ufficio della giustizia minorile di Reggio Calabria, particolarmente attivo da sempre, io non lo scopro adesso da quando sono garante, ma lo sapevo, e quindi spero soltanto che il territorio continui ad accorgersi di questo lavoro, il territorio istituzionale si accorga di questo lavoro che questi signori stanno facendo.